Musica Ci spostiamo ad Allumiere, in provincia di Roma, a nord dei Monti della Tufa. La comunità di Allumiere ha mantenuto sempre i suoi diritti civici sulle tenute, che passarono dalla Camera Apostolica al demanio dello Stato, e da questo a varie società private, fino a quando i diritti civici furono liquidati con sentenza del marzo del 1908 dalla giunta d'arbitri di Civitavecchia, attribuendo la proprietà dei beni al Comune di Allumiere. Nella seconda metà del Novecento, costituita l'Università Agraria di Allumiere, l'amministrazione è passata dal Comune alla Università Agraria, che gestisce oggi uno dei più importanti patrimoni di demanio civico in Italia. L'Università Agraria di Allumiere gestisce circa 6.500 ettari di proprietà collettive, quindi di demani civici, non di terreni gravati. Tutti i demani collettivi sono stati inseriti all'interno della ZPS Cerite Manziate Monti della Tolfa, che raggruppa circa 70.000 ettari. Attualmente le fonti principali di finanziamento sono gli aiuti finanziari in materia ambientale, in materia sulla zootecnia, eccetera, elargiti dalla Comunità Europea. Quindi parliamo di piano di sviluppo rurale, i progetti LIFE e altre progettazioni minori che vengono riconosciute ai titolari degli enti che sono sovraordinati alle zone a protezione speciale. Ci troviamo nel centro esatto delle proprietà collettive dell'Università Agraria di Allumiere. Dal punto di vista ambientale il sito è oggetto di frequenti progettazioni. Il più importante che possiamo citare è l'allevamento biologico messo a disposizione degli utenti che avessero intenzione di fare la zootecnia secondo questo metodo, di cui l'Università Agraria è stato il pioniere per dare l'esempio anche etico, non solo voglio dire proprio formale, dei vantaggi che può apportare una conduzione zootecnica biologica rispetto al convenzionale. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo concesso 800 ettari di demagno collettivo regolarmente autorizzato dalla Regione Lazio affinché un nucleo di utenti riuniti in associazione possa appunto svolgere la zootecnia con le proprie mandre secondo il metodo biologico. Nell'ambito LIFE abbiamo un incremento mediante miglioramento dei pascoli, delle praterie per quanto riguarda l'uso civico proprio degli utenti aventi diritto. Ci sono anche altre iniziative come quella per esempio del recupero del pietrame superficiale mediante la costruzione e il ripristino dei muri a secco, assolutamente idonee per il contenimento del bestiame e che si presentano anche bene con il contesto del territorio. E poi anche e soprattutto un intervento molto massiccio sulle infrastrutture per quanto riguarda diciamo la compartimentazione dei pascoli. Dentro a ogni comparto è previsto il sistema da beveraggio, quindi un potenziamento dei sistemi da boveraggio proprio tipici della maremma e quindi una filiera che si chiude a 360 gradi permettendo una fruibilità migliore appunto del pascolo che poi rappresenta un uso essenziale dell'uso civico per gli utenti aventi diritto. In questa natura, aspra e rocciosa, si delinea un paesaggio caratterizzato dal pascolo brado delle vacche maremmane, da un ricco patrimonio boschivo e da una parte di superficie adibita alle colture gestite con metodologie dell'agricoltura biologica. La rilevanza del patrimonio amministrato dall'Università Agraria di Allumiere e la sua eccellente gestione ha permesso di realizzare progetti che creano sul territorio nuove opportunità lavorative per i giovani che hanno mostrato notevole interesse a partecipare ai bandi proposti dall'Università Agraria. Come ad esempio la realizzazione di questo orto biologico gestito da un giovane della comunità di Allumiere che ne ha fatto una vera e propria attività lavorativa. Inoltre, sempre tramite la procedura di bando pubblico, è stato posto in essere un impianto di 10 ettari di vigneto doc biologico e altri 10 ettari stanno per essere impiantati. Altra interessante iniziativa è quella dell'impianto di 5.000 piante di ulivo diviso in quote di 30 piante per fabbisogno familiare e date in fitto tramite bando a uso domestico. È da sottolineare che non si dà in concessione il terreno che rimane sempre dell'Università Agraria, ma solo l'uso all'impianto.